Il rispetto dell'ambiente, la passione per la natura, per i suoi ritmi e le sue proprietà. Sono questi i valori racchiusi nelle confetture che Orogel produce con i migliori frutti della terra, coltivati con sistemi di produzione integrata e biologica. La frutta, raccolta al momento di maturazione ideale, selezionata e controllata, è subito surgelata proprio per conservare al meglio i principi nutritivi del prodotto appena colto. Lo stabilimento produttivo opera con sistemi innovativi e all'avanguardia per ottenere un prodotto di assoluta eccellenza. La frutta surgelata è caricata nelle bull di cottura e insieme agli altri ingredienti, sottoposta ad una cottura a bassa temperatura in tempi molto rapidi, per salvaguardare le caratteristiche organolettiche della materia prima. A seconda della tipologia di confezionamento richiesta, vasi in vetro, porzioni monodose in alluminio, secchielli o latte, sono utilizzate linee produttive diverse. Per la produzione di vasi in vetro, la confettura è dosata nelle confezioni tramite una riempitrice automatica. I vasi sono immediatamente chiusi con capsule e sottoposti al controllo con metal detector per offrire l'assoluta certezza che il prodotto soddisfi i rigidi requisiti di sicurezza a Orogen. Il trattamento termico attraverso un tunnel di pastorizzazione assicura il mantenimento dei requisiti organolettici nel tempo. Sistemi all'avanguardia verificano la corretta chiusura di ogni vaso e garantiscono l'ermeticità. Per il settore food service e bakery sono prodotte porzioni monodose e scatole in banda stagnata. La modernità e la tecnologia delle linee produttive permettono a Orogel di realizzare ricette personalizzate di assoluto livello qualitativo, che ne fanno un prezioso partner per il mondo delle private label e dei marchi nazionali ed esteri. La divisione al suo interno dispone di un team ricerca e sviluppo estremamente qualificato, che studia e sviluppa nuove ricette e composizioni all'insegna del gusto e del benessere, per rispondere alle sempre più diverse esigenze del mercato. Come Orofrutta, le confetture ricche di frutta in pezzi e di naturale bontà, grazie all'accurata selezione delle materie prime, offerte in una grande varietà di gusti e formati per rispondere a tutte le esigenze del canale retail e dell'oreca. Virtù di frutta, dall'esperienza di Orogel, un'esclusiva linea di composte di frutta ed erbe officinali senza zuccheri aggiunti. Le virtù naturali della frutta, esaltate dalle proprietà nutritive e protettive delle erbe officinali, purezza, energia, armonia, ritmo, regolarità, protezione ed equilibrio, per soddisfare ogni momento di benessere. Orogel confetture. La natura conserva il suo gusto genuino.